È molto diffuso l'uso di sostanze stupefacenti fra i giovani e purtroppo viene considerato un comportamento normale, un comportamento quasi lecito. L'impegno nel contrasto all'uso e allo smercio di sostanze stupefacenti, in particolare tra i giovani e Massimo, spiega il questore di Sondrio, Angelo Giuseppe Re, a pochi giorni dalla denuncia di uno studente di 15 anni fermato nei pressi del campus e trovato in possesso di 26 grammi di marijuana pronta per essere smerciata. A volte, spiega Re, i ragazzi sono inconsapevoli delle conseguenze che l'uso di droga ha in primis sulla salute, ma anche dal punto di vista legale. Purtroppo c'è una sottovalutazione del fenomeno perché molti sono convinti che l'uso di sostanze stupefacenti, di droghe leggere o l'uso saltuario di sostanze stupefacenti non provochi nessun danno, però le ricerche scientifiche dicono esattamente il contrario. E comunque dal nostro punto di vista è sicuramente vietato. Quindi noi, come Polizia di Stato, come altre forze dell'ordine, dobbiamo combattere la commissione dei reati. Cosa si sente di dire a chi tende a banalizzare questa tipologia di reati? Ma in fondo è solo una canna? Ma in fondo sono ragazzini? Naturalmente l'uso personale di sostanze stupefacenti non è un reato penale, è una segnalazione alla Prefettura e il sequestro della sostanza stupefacente amministrativo. Poi un aspetto che non viene volte e volte considerato è la commissione di reati, perché anche un giovane, come nell'ultimo caso del ragazzo che abbiamo fermato e trovato con una dose abbastanza elevata di sostanze stupefacenti, e le bustine e il bilancino per confezionare le dose. Siamo in presenza di un vero e proprio spaccio di sostanze stupefacenti, che è un reato penale molto grave. Serve più attenzione da parte delle famiglie, ma anche dei docenti a scuola? Serve l'attenzione da parte di tutti. Naturalmente noi nelle scuole facciamo tutta una serie di iniziative, di informazione per l'uso di alcol, per l'uso di sostanze stupefacenti, però naturalmente questo non è il nostro compito. Il compito è di educare rispetto alle famiglie, rispetto alla scuola, rispetto alla società civile in genere. Non bisogna sottovalutare questo fenomeno. Cosa si sente di dire ai giovani che ci stanno seguendo in questo momento? Di trovare altri sistemi per rilassarsi, altri sistemi per divertirsi, che non sia l'alcol, che non sia la droga. Ci sono tante altre cose belle da fare nella vita che drogarsi e avere in eccesso.